Ragazzo straordinario che è in parte integrante di tutto questo progetto organizzativo, che ne pensi di questa bella iniziativa? Che non me l'aspettavo che tutto l'interesse è verso un gioco di calcio sulla Playstation, questo penso sia merito vostro che l'organizzate in una maniera migliore grazie all'aiuto dei ragazzi come Yuri, David e te, bella iniziativa. Cosa pensi per lo sviluppo futuro di queste iniziative? Ho visto che ad esempio tu hai utilizzato delle nuove tecnologie che hanno un po' esaltato tutti. L'utilizzo della tecnologia in alcuni ambiti serve, automatizzare la creazione dei calendari, dei gironi potrebbe servire e metterli online in tempo reale sarebbe la cosa ancora successiva da fare. Tra le altre cose abbiamo già visto che stai sviluppando un piccolo sito proprio inerente a queste iniziative. Sì, ci sto lavorando piano piano e vedrete nei prossimi giorni, dai, qualcosina. Grazie Emanuele. Grazie a voi.